Buonasera al signor Tallone che da anni cura l'archivio Tallone, l'archivio del pittore Cesare Tallone che era il nonno e che ha insegnato ritratto e nudo a Brera nei primi anni del Novecento, tra il 1900 e il 1919 e quindi com'è che è cominciata questa avventura di occuparsi dell'esperienza e delle vicende del nonno, del nonno Cesare. Mi sono fatta archivista per necessità, devo dire, perché di Cesare Tallone ci si era dimenticato da un pezzo. Ha avuto una magnifica storia artistica in vita, ha avuto una bellissima importante mostra a cui hanno collaborato tutti i professori, tutti gli allievi, tutti i colleghi più importanti dell'epoca nel 1921, due anni dalla morte all'Accademia di Brera. Dopodiché Milano non ha mai più, per esempio, dedicato una mostra personale, una antologica a Cesare Tallone nel 1921. Ora, naturalmente il suo nome è presente in moltissimi libri e le sue opere sono esposte in collettive preziose, ma in Tallone si parla di più nei libri, nelle monografie dei suoi allievi, che lo adoravano, ha avuto quasi mille allievi il mio nonno, non solo quelli dell'Accademia Carrara, 14 anni di insegnamento e 19 anni all'Accademia di Brera, ma anche quelli che avevano i suoi studi privati, sia all'interno dell'Accademia che nel suo studio privato particolare. Quindi ha formato più generazioni di pittori, i pittori più importanti del Novecento italiano sono stati allievi di Cesare Tallone e dei nomi, per dire qualche nome conosciuto, Pellizza da Volpedo, Carrà, Funi, lo stesso figlio Guido Tallone e moltissimi altri che hanno fatto la storia del Novecento italiano. Ma la critica contemporanea e l'eventuale organizzazione della mostra non c'è mai stata. Mi pare, prima del 2000, una bella piccola ma preziosa mostra all'Overe e dopo di che nient'altro. Quindi mi sono detta che non si può lasciare, non si può dimenticare un artista così importante, perché tra l'altro è il raro caso di un artista, di un grande pittore e anche un grande maestro. E grande maestro in che senso? Perché lui insegnava, dava gli strumenti per diventare pittori ai suoi allievi, però gli lasciava assolutamente liberi nelle scelte, non solo, ma li incitava a guardare al di fuori. Lui per esempio gli accompagnava all'Accademia Carrale, che era un'accademia molto, diciamo, chiamiamola Demodè, dove quasi soltanto gli alunni si dedicavano a copiare dei soggetti religiosi. Lui a capovolta, ha stravolto veramente tutto l'insegnamento, incominciando da uno scheletro di grandezza naturale, da tavole anatomiche, partendo dal disegno che per lui era essenziale, perché senza disegno, come una casa senza fondamenta, però li portava a vendere le mostre di Venezia, per esempio, a Viennale Venezia o a Milano, le mostre che c'erano anche a Roma. Aveva chiesto di non dare soldi, premi agli studenti, ma di devolvere tutti questi soldi per poter fare dei viaggi di istruzione. Non solo all'Accademia stessa, lui portava ad esempio gli antichi, per esempio, aveva addirittura portato da Londra una serie di incisioni di Holbein, che sono state poi, aveva proposto l'Accademia Carrara, acquistate dall'Accademia Carrara, per dimostrare ai suoi giovani studenti come si dovesse intendere l'incisione. Nello stesso tempo portava delle teste di Michetti, che era un famoso pittore della sfera romana, ma molto diverso da come si esprimeva a tallone, per far vedere anche altri stili, altri modi, e poi a Venezia per vedere anche l'estero. Questa è l'apertura mentale di un pittore che non era geloso di sé, tra l'altro lavorava insieme ai ragazzi, ho delle magnifiche foto scattate da Pelizza da Volpedo, tra l'altro, che mi hanno concesso la fondazione di Pelizza da Volpedo, in cui si vede il tallone che dipinge davanti al cavalletto con il modello a fianco, perché lui pretendiva un modello vivo, vivente, oppure copia da statua, e a dimensioni reali, perché voleva che i ragazzi imparassero a esprimersi a grandezza naturale, perché dal piccolo non si può passare al grande, ma se impari ad esegnare in grande puoi fare anche poi un franco bove, un'incisione. Ecco, lui dava non solo lezioni come darebbe un altro professore, ma proprio insegnava anche i trucchi del mestiere, lavorando con loro, li portava fuori, li portava in campagna, addirittura c'è un quadro proprio di Pelizza, si chiama Sassi in un torrente, un quadro di tallone Sassi nel torrente, probabilmente fatte e eseguite allo stesso modo. Lui ha aperto, per esempio, per insegnare, per svegliare quest'Accademia Carrara, aveva invitato i suoi amici per la prima volta nella storia degli amici colleghi, i suoi compagni di scuola, al Carrara, per esporirsi i loro quadri. Ecco come ampliava le vedute, e questo lo fa sempre, lo fa anche quando i primi giovani, i suoi allievi sono attratti dal futurismo, e Brera, l'Accademia di Brera voleva addirittura espellere questi ragazzi. Lui li ha difesi da tratta e in effetti sono i rappresentanti, i primi rappresentanti nel manifesto futurista sono allievi di Cesare di Tallone, Carrara, Bonsagni e Roboromani. E in casa Tallone, dove era aperta a tutti, sia i suoi colleghi, sia anche di altra estrazione, non solo piettori, ma anche musicisti, poeti, arrivavano anche tutti i ragazzi, così potevano conoscere e scambiare idee con altri esponenti dell'arte. Insomma, un modo di vivere l'arte è assolutamente a tutto tondo, e per lui l'arte, la pittura era definita la terribile arte, perché la pittura è terribile, se ti vuoi applicare. Lui ha 12 anni, quando Orfano è tornato da Parma ad Alessandria, che il papà era pinerolese, ma la mamma era di Alessandria, con le tre sorelle la mamma diventa il capofamiglia. Lui va in una bottega di questo Annibeli Motti, che era un incisore rinomato di Alessandria, e il tallone in pochi mesi diventa il migliore di tutti i suoi assistenti. A 14 anni diventa prima assistente, poi aiuto del pittore Pietro Sassi, e lo segue per ville palazzi dell'Alessandrino e Savonese, dipingendo prima gli spolveri e poi dipingendo addirittura fresco. Ecco come si è fatto alle osse. Cioè il tallone, quando è entrato all'Accademia di Bela, già sapeva dipingere, aveva fatto i primi ritratti, ma si sentiva, come dire, limitato dal fatto di non avere avuto un'educazione però di tipo accademico, specialmente riferendosi a Milano, che lui, non solo lui, si riteneva la migliore Accademia d'Italia. Quindi entra in gioco questo benefattore di Alessandria, un industriale ducciario, che capisce il dramma di Tallone, diciottenne, e l'aiuta facendo una pensione per il giovane professor Tallone, tenendo un registro curatissimo con tutti i soldi devoluti, con tutti i nomi di chi insieme a questo Domenico Boratto volevano aiutare Tallone all'Accademia di Bela. Erano 90 lire al mese, 90 lire al mese, non saprei dire adesso che valore potrebbero avere, di cui Tallone accusava sempre ricevuta e ha sempre dimostrato un'enorme riconoscenza e questo anche quando diventa addirittura, moltissimi anni dopo, io parlo del 1872 quando avviene questo ingresso suo all'Accademia di Bela e nel 1999, insomma, quando vince il concorso della cattedra che era stato del suo maestro Giuseppe Bertini, la prima cosa che fa è scrivere al figlio di Domenico Boratto della riconoscenza a questo suo paterno e a tutti gli altri anche benefattori che gli avevano consentito di andare. Quindi aveva questo merito di una grande riconoscenza per tutti, era modesto Cesare Tallone, orgoglioso perché sapeva benissimo di valere i dati e è stato sempre il primo. Per esempio in due lettere che abbiamo di Giuseppe Bertini che ha avuto un lunghissimo periodo, credo forse 40 anni di insegnamento, ha detto che uno dei migliori allievi che avessi mai avuto è stato Cesare Tallone e lo aiuta, aiuta molto Tallone. Tra l'altro lo presenta l'Aiez e l'Aiez presta il suo studio Tallone per l'esecuzione di un enorme quadro storico che per Tallone era il senso di riconoscenza. La storia di questo quadro, proprio prima accennavi anche che insegnavano come passare dal piccolo al grande, cioè di occuparsi anche di opere grandi. E' stata l'opera più grande che ha fatto ospite. Io penso, ti dirò non solo, è stato l'unico quadro storico, prima c'erano dei progetti per questo quadro, mai eseguito in sua vita, perché Tallone non ha mai fatto un quadro di genere, di qualche genere intendo, genere pietistico che tanto andava di moda nei post impressionisti, il genere guerresco, il genere storico. No, questo è stato una riconoscenza verso il suo maestro Bertini, bisogna ricordare che Giuseppe Bertini era anche direttore della Pinacoteca di Vera, era un uomo coltissimo e preparatissimo dell'antichità e Tallone gli dà il merito di averli fatto amare l'antico. In effetti la pitura di Tallone che cos'è? È la ricerca plastica del Quattrocento italiano e poi la modernità della pennellata, la disinfoltura, l'allontanarsi da qualsiasi leccatura del neoplasticismo. Quindi Tallone vede da un lato la scapigliatura nel senso di questa libertà assoluta e dall'altro il rigore invece degli antichi maestri. Lui lo diceva, lo scrive anche spesso Carrà nelle sue memorie, dice Tallone, la lezione di Tallone era quella, tant'è che quando Carrà lascia il futurismo e dopo la guerra in effetti è finito, ma insomma lui cambia e va verso questa pittura ricordando il Quattrocento italiano, questa pittura semplificata diciamo ma plastica e ricorda che è il merito di Tallone, perché Tallone ci diceva che i pittori moderni hanno identificato il senso plastico dei nostri antichi del Quattrocento. Ecco che la lezione era un modo di vivere l'arte insieme sui allievi, la lezione di Tallone. Perciò ritornando a questo quadro, in ormai sei metri per più di tre, quasi sei metri per tre, lui lo fa come omaggio all'Accademia. Era la fine degli studi ma invece di andarsene per conto suo è rimasto in Accademia per altri quasi tre anni, dal 79 alla fine dell'82 per eseguire questo quadro, proprio perché aveva la volontà di dimostrare quanto aveva imparato in Accademia. È un quadro che ha avuto un successo enorme alla mostra dell'83 nazionale e internazionale di Roma, che è stato da principe borghese, ed è esposto insieme a un ritratto che fece una tale, insomma fu definito tale da fare epoca, cioè il ritratto di Celere e Tallone, quella mostra, è tale da fare. Cosa fa? Appunto proprio perché lascia la pittura di genere, come ha lasciato questo quadro che gli è costata una fatica tremenda, era la ricerca di soldi, naturalmente aiutato dal povero Borato che sempre, una volta è finito nel 78, diciamo la pensione, allora Borato si prodica perché il municipio di Alessandria dia ancora delle sovvenzioni e tallone, glielo dà per tre anni, ne pare più due, perché i colori, i modelli, i costumi, perché la nonno faceva fare, disegnava e poi faceva eseguire, addirittura c'è una pelliccia d'orso che rimane menzionata in una delle sue lettere, per cui impazzisce per la ricerca di questa pelliccia d'orso, perché c'è questo goto che deve avere la pelliccia d'orso addosso. Ecco, forse anche per le peni che ha dovuto passare per dipingere questo quadro, lui farà soltanto un ritratto e paesaggio, però fa una cosa curiosa, unica nel suo tempo, anzitutto è il più anti-romantico, anti-retorico del suo periodo, non mette almenicoli, non mette oggetti riconoscibili della classe della persona rappresentata e lo sfondo è soltanto a scopo luministico, difficilmente, tranne i rarissimi quadri, noi vediamo un'ambientazione del soggetto, a lui interessa soltanto appunto, questo col forte chiaroscuro, l'energia plastica del soggetto e anche l'energia psicologica del soggetto, perché lui a parte la somiglianza è più straordinario trovare la somiglianza e lui voleva far uscire la persona, la realtà di questa persona. quindi lui toglie tutto quello che è superfluo dal ritratto e toglie la figura dal paesaggio, cioè non esiste, mi pare uno del 78, antichissimo, c'è una figurina, lui fa il paesaggio, perché? Perché sempre quella è la ricerca plastica, in un periodo in cui si parla di divisionismo, di futurismo, di simbolismo, per esempio, col previati, eccetera, lui no, rimane fedele a se stesso, lui vuole, pensa che l'energia della realtà superi qualunque altro tipo di discorso anche intellettuale, attenzione, perché lui si è messo contro molta critica, perché diceva che i critici sono fatti per i salotti intellettuali, ma è un quadro che parla del pittore, come lui l'ha detto a toni molto alti, alla mostra di Venezia, e c'era vicino a lui e quello l'ha proprio preso, l'ha presa malissimo e non ha mai più parlato di Cesare Talloni, qui parlo quando nel 1906, nel 1907, quindi era un uomo che non si faceva fermare da nessuno, non gli importava quello che si pensasse di lui, lui faceva il suo mestiere, perché l'arte è mestiere, prima, perché tu hai un talento e se non hai talento non puoi essere pittore, ma se non è essere pittore, poi lo succede poi, lui temeva che col futurismo, e lo diceva i suoi allievi, attenzione, non fatevi attrarre da qualcosa che non sentite veramente, perché rischiate di perdere poi invece quello che avete fatto, era stato a Firenze, era stato a San Luca, a Roma, con la pittura d'impasto, poi è chiaro che lo stesso Pellizza si volte verso parte il simbolismo e parte il divisionismo, però se io non avessi imparato il forte disegno della maschera pittura a tallone non avrei potuto fare niente, niente altro. Quindi, capisci, è lo strumento del pittore, il senso di un professore che dedica i suoi allievi quanto lui ha imparato, quanto lui ha imparato da l'infanzia fino a quando insegna, da notare che lui aveva 32 anni quando insegna all'Accademia Carrara, quando vince il concorso e lo vince contro pittori molto noti, tra l'altro Gaetano Previati, che resta sempre il secondo che deve stare a tallone perché non riesce mai a battere, lo batte nell'ultimo concorso delle scuole riunite, nel 79, con, diciamo, sempre l'argomento che poi lui svolge, l'argomento quadro storico che svolge in grande, lui aveva vinto l'ultimo anno dell'Accademia il premio delle scuole riunite e il secondo premio l'ha preso Gaetano Previati, perché il quadro si chiamava Una piadonzella difende dalla rapacità di un goto le sacre affidate alle sue mani. Insomma, questo veniva da un libro del Gregorovus della Roma del Medioevo. E dopo lui vuole ingrandire questo tema e lo fa, è un quadro enorme. Ma una cosa curiosa, Giancarlo, perché io vorrei che lo sapessero i giovani adesso, tu pensa com'erano questi concorsi. Allora, venivano estratte a sorte dei temi, c'erano cinque temi, non so, proposti da Lyatt, tre temi da Albertini, estratte a sorte. Si leggevano ai concorrenti che erano arrivati i finalisti, in questo caso era il tallone Previati, e un altro che adesso in questo momento non ricordo. I ragazzi venivano, veniva letto il tema, da notare, non ho fatto vedere niente, letto il tema, venivano chiusi a chiave separatamente in tre stanze, con una guardia fuori. Le prime otto ore dovevano progettare, gettare, diciamo, terminare proprio la bozza. E altri tre giorni, sempre passate quanto ore vuole essere, sempre chiusi dentro a chiave per terminare il lavoro. Ecco, pensa alla difficoltà. Tu immagina, io ti dico, non lo so, Cesare, già questa è una cosa che già conosciamo di più, l'assassinio di Cesare, ecco, basta, tu vai là e devi fare tu. Giulio, Cesare, grandezza naturale, naturalmente, Giulio, tutti i personaggi, eccetera, eccetera. Quindi pensa che, appunto, di preparazione avevano questi ragazzi, che sono incredibili. E, appunto, la preparazione, te lo dico subito, guarda, scusa, permettimi che io lega una cosa brevissima. Di cosa faceva l'Accademia di Brera nella lettera di tallone? Allora, questo è, aspetta, aspetta, no, dove l'ho messo? Ecco, guarda, lettera 22 gennaio 1873 a Domenico Borano. Spero che hai la goda perfetta salute, anche io non posso lamentarmi, per ora le do noto, che sono occupato, che sono contento un giorno più dell'altro di poter così studiare. Alla mattina, dunque, dalle 9 alle 12 alla figura, dalle 12 poi ad un'ora al paesaggio e dall'ora alle 3 alla prospettiva, dalle 3 alle 5 di nuovo al paesaggio e la sera vado a scuola di ornato. Ecco, questo è il... ti rendi conto? Allora, certo che poi sai dipingere, ma questo dovrebbero sapere i coreani che frequentano l'Accademia di Brera adesso. Allora, capisci perché io ho avuto voglia di fare questa, diciamo, di curare le vite e le opere di Cesare Tallon? Perché sono andata a fare delle ricerche, ci ho messo 5 anni per fare questo, più altri 5 anni per il secondo libro scritto, pubblicato al 12, delle ricerche nell'archivio storico dell'Accademia di Brera e sono saltate fuori moltissime cose estremamente interessanti, anche tecniche, anche utili per altri che vogliono conoscere come funzionano le cose, ma poi tanti quadri, per esempio, tutti i quadri inediti della collezione Boratto, i rapporti con altri personaggi che vengono fuori da queste lettere, il coinvolgimento, per esempio, perché esistono anche dei bellissimi documenti che riguardano quella famosa mostra postuma, per cui i suoi colleghi vanno in giro per l'Italia e riescono a tenere dalla regina il quadro ufficiale che adesso si trova a Palazzo Chiabrese, ma è stato per tanto tempo desperto, era stato esposto nella mostra del 1921. Il quadro storico, pensa, trasporta tutta una storia di carretti, di cavalli, di spese fatte per l'osteria con tanto, costa il bicchiere di vino, costa il salame, costa le cose di tutti questi suoi colleghi, amici che l'adoravano, che hanno fatto di tutto perché Talone avesse questa bella mostra che non si può dire che lui non avesse avuto in vita grandi soddisfazioni, però per essere una mostra postuma, l'Accademia si è mossa in modo grandioso, cosa che nessuno più ha fatto. Nessuno più ha fatto. Domanda, per il libro che abbiamo fatto come trasferito, proprio su Cesare Talone e l'Accademia di Brera, poi io non sono potuto intervenire. Hai fatto, io ricordo che hai fatto, perché c'è anche un articolo, poi su Corriere della Sera, che ha fatto anche vendere qualche altra copia al libro, però hai fatto un dibattito all'Accademia di Brera. L'Accademia di Brera si può essere sensibile per promuovere... Caro, io ci provo. Allora, ci provo. Sai chi ha potuto, io so, ho tutte le conoscenze, conosco tutti gli eventuali collezionisti, dove sono i quadri, le trascette, ci sono le fotografie, c'è la cattolazione, eccetera. Però io non ho opere di me, non ho un'opera. Io non sono una fondazione, io sono una nipote che si è pensato di fare questo lavoro... L'Accademia di Brera, essendo stato lui anche un solo formato... Senta, ma è questione di sponsor, non lo so, è questione di sponsor, io credo, di soldi. Qui ormai niente funziona più senza soldi. Se io avessi, che ne so, 20 quadri anche soltanto, ne vendo uno, pago tutto, io mi faccio le mostre che voglio. Però così no. Se tu, capisci, è spaventoso come funziona oggi. Io ho, per esempio, una cosa, il Museo d'Arte Moderna, quello che c'è in Piazza del Gomo, è curiosissimo, dove c'è il Carrà Giovani, la storia anche degli inizi, ci sono altri che non abbia messo un quadro, un paesaggio, per esempio, che ispira i paesaggi di Carrà. Cioè, è una cosa, una mancanza di attenzione per un artista che ha insegnato 19 anni all'Accademia più importante d'Italia, che ha avuto mille allievi, che è stato un grande vittore. Ecco come si esprimevano allora quello che invece nessuno vuole ricordare adesso. Ma perché? Perché probabilmente chi fa quelle mostre, sai chi fa le mostre, quelle che hanno in mano delle opere, magari le peggiori, le meno importanti, pur di guadagnare su questo business che è prima la mostra e poi la vendita. Io l'ho fatta anche per il mio zio Guido. È una cosa, purtroppo, purtroppo fuori dai denti, devo dire così, non posso stare zitta. Secondo me... La librera poteva essere il promotrice di questo, ma è un ingegno... Ma certo! Ma certo! Adesso c'è solo un quadro che tra l'altro l'hanno restaurato, messo lì, che forse è l'unica volta che io mi sono confusa perché ho detto no, ma non è questo. Ma in realtà perché l'hanno restaurato, questo ma ha condiviso con me anche il professor Rosa dell'archivostore, l'hanno ripulito talmente bene che sembra nuovo. Ora, quando si fa un restauro, ragazzi, bisogna anche stare attenti a che tipo di restauro si fa. Comunque è un bel quadro, un bel quadro, vabbè, e che sono tornata dopo un anno, già non era più sposto. Insomma, io non ho parole. Peccato che non riesco a trovare adesso quello che dicevano per promuovere questa mostra postum. Ma insomma, guarda, io mi sono incredibilmente anche divertita. Tu non ti puoi immaginare, tu sì che puoi immaginare, perché tu sei un ricercatore, ma altri non possono immaginare. che cosa significa andare all'accademia e copiare tutti i nomi, 19 anni di insegnamento, tutti i nomi degli allievi di genetà loro. Per i primi anni non erano segnati distinti dai suoi, quindi è stato ancora più complicato. Insomma, io a un certo punto quasi mi commuovevo, perché vedere questi poi, che io sapendo, perché io in questo caso ero la nonna e mio nonno era il nipote, perché ho cominciato a studiare mio nonno che c'era 18 anni, quindi è una curiosa situazione, no? E niente, mi sono mi sono persa in questo questo rapporto affettuoso, in questa riconoscenza dei suoi allievi per il pittore, poi dico e adesso nessuno, nessuno ci pensa più. E quindi ecco, da lì il mio lavoro. io ho catalogato moltissime opere in più, oltre quelle che ho catalogato per il libro, dopo sono arrivate altre opere molto importanti, in più tutta questa serie di opere che erano della collezione Boratto che hanno conservato ed è straordinario a trovare una collezione intatta di questo benefattore che ha aiutato Sitalone, ma insomma poi lo aiutava probabilmente anche a quest'anno delle prime cose, mio nonno faceva, ha fatto un ritratto per esempio alla fine del video un bellissimo ritratto che è a municipio di Alessandria e insomma vedere queste immagini moltissimi inediti per esempio scoprire addirittura la prima volta che Sitalone in 1877 espone alla mostra annuale di Bera che era molto importante perché tu sei allievo al primo anno della scuola di pittura perché prima c'era paesaggio disegno disegno e espone un suo quadro perché aveva vinto un premio finale ed è all'interno della 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 Chiesa delle Grazie della Sacristia della Chiesa delle Grazie e io questo quadro l'ho trovato del Boratto e altre cose altri disegni eccetera che possono risalire cose che non esistevano prima di me per esempio io sono andata ho saputo da una lettera di tallone all'Accademia Carrara che lui aveva ritratto Re Umberto Re Umberto appena salì per trono e il 1879 ha regalato per riconoscenza al municipio di Alessandria questo quadro Grandezza Naturale ora questo quadro era perso non c'era più io quando ho letto quella lettera immediatamente mi sono messo in contatto era stato spostato in tanti luoghi diversi e finalmente è stato ritrovato il quadro non si sa perché questo dovrebbe ancora indagare io credo che fossero un quadro di fotografia perché ho trovato la fotografia della stessa posa in molti altri ritratti del Re fatto da pittori alcuni famosi alcuni non famosi e anche da lui che era ancora allievo dell'Accademia di Ebrea e quindi comunque ho trovato questo quadro che nessuno diceva che esistesse e capisci che si rimettono a posto come un puzzle è come quando tu dici ho una lacuna e io dai 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 finché quella lacuna lì la riempio quindi è è un grande stanchezza grande dedizione ma anche grande piacere nel riuscire a ottenere certi risultati e quindi capisci che io sono l'opposto dell'archivista perché disordinata artista anch'io se vuoi io ho lasciato la pittura andava abbastanza bene l'ho lasciato quando è nato mio figlio perché si può scrivere si possono fare tante cose ma non si può dipingere mi dispiace una donna se non è sposata se solo si può fare ma quando hai delle altre importanti è difficilissimo tu non ti puoi non puoi lasciare a metà un quadro per andare a fare gli spaghetti anche se sono due cose importanti tutte e due e tu lo sai bene l'importanza dello spaghetto fatto bene e del quadro fatto bene però non si può allora io ho detto basta se volessi potrei benissimo dipingere ma non lo faccio ho preso un'altra strada che è questa qui che mi dà molto piacere nel frattempo mentre io parlo di mio nonno e di mio zio Guido Tallone che è stato un altro magnifico pittore nel novecento italiano e io ho fatto ricerche su sui contatti capisci quindi su Silvila Reamo su Dino Campana su tutti gli amici di Tallone come D'Annunzio che era amico di Tallone come Marinetti come insomma erano tutti Casa Tallone specialmente l'ultima quella del 1907 al 1919 il via Borgo Nuovo che si chiamava Maison Rustique perché era una casa un po' faticente era un esplomento di cappuccini che era all'interno di via Borgo Nuovo una volta non andava sulla strada come adesso e quindi finalmente ci stavano tutti i nove figli di Tallone e è diventata la casa più più stabile prima hanno cambiato 17 case meno di 10 anni e 8-9 a Bergo perché i ragazzi facevano tutti i colori però mia nonna e mia nonna aspettavano la loro libertà e quindi e su te le racconto una che è bellissima mio padre è stato calato dunque le hanno chiusi in casa per castigli maschi e 4 maschi perché poi c'erano le femmine e dice no adesso state calmi studiate fate quello che dovete fare erano bambini allora giocano a palla la palla cade dal terrazzo e finisce per terra più di 3 piani forse 4 piani allora cosa fanno rigano insieme le lenzone attaccano mio padre che era più leggero di tutti anche più coraggioso e l'ha calato solo che non è arrivato all'altezza della strada ma a 7-8 metri più in su per cui si è radunata tutta la gente intorno cioè che sono arrivati con una spompiera con delle sedie con una scala a prendere per dirtene una ne hanno fatte veramente tutti i colori poi invece hanno dimostrato molto disciplina del resto anche mio nonno era così era liberalissimo era estroverso era come si dice assolutamente in questo era molto scapigliato se vuoi però rigorosissimo per quanto riguarda la sua la sua è come mio zio Guido guarda io ho avuto il piacere di essere ritratta da Guido Tallone e Guido era l'uomo più delizioso del mondo quando si fermava lui era come il sole tutto intorno come sapeva raccontare era un uomo che ispirava amicizia simpatia insomma ti dico nessuno poteva volermare Guido Tallone ma era quando ti dipingeva cambiava cambiava in un modo totale diventava freddo e tu vedevi questi occhi azzurro e grigio che si muovevano spasmodicamente dalla tela alla tela alla tela guarda questa è una terapia psicoanalitica come la chiamiamo come non non si può ottenere in nessun altro modo perché tu ti senti messa dentro lì tu sei tu capisci questo lo può fare solo un grande ritratista non quelli che ci inciscano che dipingono in dieci giorni ma quelli che sanno darti la tua la tua natura dentro un quadro in un'ora è un'esperienza da fare io credo che non ci sia più nessuno perché la rapidità sia di mio nonno secondo quando mi ha detto che di mio zio era veramente straordinaria straordinaria beh dimmi fermami è fermo perché io vado questa conversazione potrebbe durare ora perché sono lasciamo che in coda di questo video metterò le copertine di libri e quindi chi si interessa che ha questa chance è stata per me è stato un bellissimo viaggio e a modo mio ho anche capito che forse l'handicap della ripresa della notorietà e del lavoro che ha fatto è dovuto sia una coincidenza storica che è nello stesso momento che nasce nasce a cavallo proprio della sua pratica di insegnamento non solo il futurismo ma l'astrattismo che nasce come dire è successo anche con delle religioni questo cioè quello che viene prima è considerato fossile per dirla in modo come dire volgare quasi e invece classico è è la base e anche chi è sempre stato così anche Morelli la Britannica quando si vuole dare una mossa diciamo risvegliare la pittura contemporanea si deve guardare al passato l'hanno fatto tutti i grandi artisti e l'ha fatto Cesare Tallone molto bello allora io ringrazio Gingliora Tallone questa bellissima intervista mi scuso con i lettori c'è stato un momento in cui la connessione non ha funzionato bene ma ho lasciato come dire che si ripristinasse piuttosto che intervenire tagliare eccetera non dura moltissimo poi per il resto l'intervista è stata regolata bene grazie Gingliora Tallone ciao a tutti ciao Giancarlo grazie a te grazie a te